Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono particolarmente emozionata perché la prima, lo so che sto ripetendo gli ultimi giorni costantemente che sono particolarmente emozionata ma sono delle giornate ricche di emozioni e oggi è la prima volta ragazzi che firmo nel mio studio peraltro quindi sono, insomma sono contenta ma non so bene come siano, inquadratura, luce eccetera quindi lo sapete che nuovo setting, nuovi consigli mi dovete dare ragazzi ditemi com'è l'illuminazione, il background, cioè tutto come vi sembra, l'inquadratura troppo vicina, troppo lontana fatemi sapere, mi raccomando nei commenti ho deciso di farvi innanzitutto perché le due cabine armadio sono pronte quindi ho deciso di farvi oggi il tour appunto della mia cabina armadio barra delle mie cabine armadio perché in realtà sono due, visto che non avevo una stanza grande ma due piccole ho appunto suddiviso la prima cabina armadio nella cabina armadio dei vestiti, cappotti insomma quindi abiti, indumenti, l'altra invece è soltanto dedicata agli accessori quindi alle borse e alle scarpe prima di lasciarvi al video vi ricordo di mettere like se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi anche al canale attivando la campanella qua sotto così non perdete i prossimi video lo so che volete tutti vedere la cabina armadio quindi bando le ciance andiamo subito prendo la videocamera let's go iniziamo con la cabina armadio degli indumenti eccola qui ve la faccio vedere nell'insieme e poi vediamo tutto più nel dettaglio eccola qui qui ci sono alcuni cassetti, alcune cosine tipo qui dovrò aggiungerne altri ma per il resto è tutta tutta completa vediamo un pochino meglio nel dettaglio come potete immaginare qui in Olanda non si fa il cambio degli armadi perché comunque anche in estate si può far freddo quindi bisogna sempre avere anche i maglioni pronti e quindi ho lasciato tutto tutto quanto fuori ragazzi quindi questa è proprio tutta tutta la mia collezione mi piace moltissimo anche questo puff che ho preso qui con la torre Eiffel anche questo tappeto mi piace un sacco ma vorrei aggiungere qualcosina qui quindi penso prenderò un tavolino ma per adesso appunto sono molto contenta di questo puff che ho preso su Maison du Monde ed è appunto tutto rosa in velluto è un rosa bellissimo, un rosa antico e qui c'è invece questo dettaglio dorato molto molto carino ma arriviamo allora qua sotto ci sono appunto alcune buste perché devo ancora vedere qui devo mettere assolutamente altri cassetti penso di metterne tre quattro se ci stanno penso tre e sto pensando di mettere alcuni cassetti anche qui scusate la mia S è strana per l'invisaline come al solito comunque da questa parte ci sono appunto tutti quanti i miei maglioni qui ci sono anche abiti maglione quindi oversize un pochino più lunghi da indossare con la cintura e qui ci sono invece gli abiti tutti un po' con lustrini, paillette quindi un po' più scintillanti qui ci sono alcune t-shirt mi sono resa conto di non avere tantissime t-shirt più che altro top che poi vedremo comunque appunto questi sono i maglioni qui potete intravedere vi faccio vedere giusto qualcosina che so che già conoscete del mio guardaroba questo è il cardigan di Fendi quello in cashmere è super 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 morbido lo adoro anche se la forma come sapete non mi fa impazzire ma il colore insomma il monogram Fendi è molto molto bello qua sopra c'è invece il maglione di Balenciaga che mi avete visto indossare tantissimo negli inverni scorsi fa caldissimo questo l'adoro ma decisamente non è il momento del maglione poi questo top fucsio invece l'ho pagato molto poco e l'ho preso su buku mi chiedete sempre dove potete trovarlo su buku.com qua sotto ci sono altri maglioncini questo è un pochino più leggero in realtà questo è di Givenchy e c'è appunto la scritta love in questo rosa chiaro anche se si è un po' rovinata purtroppo con i miei lavaggi ma in realtà il nero cioè la maglia ha rilasciato un po' di colore che è andato a finire sulla scritta vabbè poi qui c'è ok la mia felpa fioroccio qui c'è un po' un mix di quello che mi avanzava su questa mensola penso si possa vedere questa la indossavo in una delle mie ultime foto su Instagram quando siamo stati con Chiara Andrea e Neil in centro ad Amsterdam e appunto potete vederla insomma sul mio Instagram questa è di Versace ed è stata una degli ultimissimi acquisti e poi qui invece c'è questa di Dior e anche questa penso che la conosciate con la pina è molto carina questa e mi trovo ad indossarla anche qui di sera se fa freddo è molto comoda questa felpa poi la scritta Dior rosa così tutta pelusciosa mi fa impazzire è troppo bella qui c'è un altro maglione che sicuramente riconoscerete il maglione Friday di Alberta Ferretti che adoro ne ho tantissimi di questi di Alberta Ferretti qui ce n'è un altro questo più corto bianco invece con la scritta Saturday questo è uno dei miei maglioncini preferiti di sempre e di Gucci adoro che sia tutta così colorata con questo dettaglio ragazzi sul collo rosa glitterato e cioè è troppo bella sempre per la linea Alberta Ferretti c'è anche Monday questo è stato il primo della mia collezione e qua sotto faccio vedere se riesco c'è anche Saturday questo vestito argentato in particolare è molto importante per me perché l'ho indossato all'evento di Benefit per il lancio del mio kit sopracciglia l'evento che Benefit ha organizzato per me per il lancio appunto del mio kit quindi è molto speciale per me questo vestito e in generale noterete che mi piacciono moltissimo le paillettes perché ho un sacco di vestiti appunto in paillettes che adoro e qui sotto ce ne sono altri questo l'ho indossato questo 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 o questo non mi ricordo mi sa questo questo l'ho indossato all'evento Zalando a Milano è stato un omaggio del brand sia questo che questo e li adoro troppo sono meravigliosi il marchio è Needle and Thread adoro spostandosi dai maglioni arriviamo invece a questa zona ad angolo non ho non sono riuscita a sfruttare per bene l'angolo quindi c'è ancora un po' di spazio dietro ma mi piaceva così piuttosto che l'altra sistemazione che era l'altra alternativa vabbè comunque sono molto contenta di come uscite alla cabina armadio anche se appunto devo ancora aggiungere qualche cosina ma proprio solo questi cassetti per il resto è fatta e poi appunto forse un tavolino se me lo consigliate altrimenti no ditemi voi che cosa ne pensate secondo me ci sta da questa parte appunto allora lì sopra ho messo dei qui ci sono i cappellini e poi delle giacche tipo bomber là sopra anche quella di benefit che mi hanno regalato con il mio nome a san francisco c'è anche il cappellino di benefit qua sopra ci sono invece allora lì c'è un cappello da mare di two faced che mi è stato appunto regalato dal brand lo adoro troppo l'ho indossato anche le maldive e poi qui ci sono invece cosine più invernali quindi cappellini e guanti sciarpe c'è anche la mia sciarpa burberry che adoro adoro e quella con i corecini e là sopra ci sono altri cappelli in lana con qualche pellicciotto sono pelliccia finta qua sotto ci sono giacche miste jeans questa è quella rosa di chiara ferragni che non piace a nessuno ma a me si cioè nei commenti mi dite tutti che non vi piace ma io la adoro adoro questo colore e qui ci sono altre camicie giacche qui c'è il mio ci sono alcuni abiti perché sono molto molto lunghi adoro quest'abito non l'ho ancora indossato ma è meraviglioso e appunto altre giacchette e poi qui invece ci sono tutti i miei cappotti che ci stanno a malapena quindi se ne acquisto altri onestamente non so dove metterli comunque ci sono i miei teddy coats c'è il mio come si chiama questo non mi ricordo ma il mio parka fendi questa giacca è di ve la faccio vedere bene è di stella mccartney e la adoro è meravigliosa e questo tra l'altro l'avevo presa con chiara una delle prime volte che ci siamo viste a milano altro cappotto che adoro è questo di max mara tiene caldissimo super elegante ma adesso parlare di cappotti mi rendo conto che è un po' strano anche questo di max mara è meraviglioso cammello fantastico ok ho caldo solo a vederli e poi arriviamo qua sotto invece ci sono i miei occhiali da sole questi sono dei case che ho preso non mi ricordo più mi sa su amazon qui ci sono i miei raiban questi sono gucci no questi sono di or raiban di or questi sono rotti purtroppo erano di prada hanno avuto un incidente qui dietro c'è il pezzetto mancante poi questi onestamente non lo so ah si sono di max jacobs e mi sono stati regalati quando sono stata a parigi per max jacobs all'evento e poi questi invece sono di celine e questi di anche questi di celine questi dovrei indossarli di più non li uso mai ma sono bellissimi e poi questi questi sono d'oro sono meravigliosi il brand è se non sbaglio linda farrow ma non mi ricordo questi sono di or e poi questi questi li conoscete sicuramente li indosso tantissimo sono di gucci questi sono di unofficial e questi sono stati un regalo di too faced questi invece sono di chanel sono molto belli li indosso di solito appunto quando ho il rossetto rosso qualche dettaglio rosso e poi questi sono finti che ho preso su asos e lì ho un altro paio di raiban la dietro c'è anche il mio cerchietto di miu miu che onestamente non metto mai ma ve lo faccio vedere è meraviglioso solo che secondo me sta bene a chi ha tantissimi capelli a me non tantissimo perché schiaccia parecchio è molto voluminoso quindi non mi sta benissimo anche se lo adoro è troppo bello poi là dietro ci sono altre scatole vuote c'è la scatola del mio rolex ma è vuota e qui c'è un'altra scatola di san loran ma anche questa è vuota qui ci sono invece i miei due cofanetti cartier anche questi sono vuoti perché indosso le cosine che di solito tengo qui questa è la box dell'orologio che sto indossando che è il panther appunto di cartier è bellissimo adoro questo orologio uno dei miei pezzi preferiti in assoluto tra tutte le cosine della mia collezione di gioielli l'altra scatolina di cartier invece è dell'anello love che sto indossando arriviamo ai gioielli questo è il primo cassetto è cambiata un po' la disposizione rispetto a come era in Italia quindi vedrete qualche differenza decisamente qui ci sono i miei bracciali di or in stoffa ho tre set ci sono questi due rosa vengono appunto venduti a coppia questi sono nuovi di quest'anno poi ci sono questi questo fucs è molto bello e poi ci sono questi che hanno colorazioni un pochino più invernali autunnali questo è il mio rolex altro preferito per quanto riguarda gli orologi è un date just con ghiera in oro bianco qui ci sono le collane in argento e oro bianco in particolare sono affezionata a questa di Louis Vuitton che come sapete era per una campagna per beneficenza poi qui ci sono tutti i miei anelli argentati o oro bianco e dorati sono parecchi quindi non ve li faccio vedere tutti quanti alcuni sono delle jewel candle questo invece è un anello di Hermès di questo ricevo sempre un sacco di richieste ragazzi questo è di Dior ma della collezione di tre anni fa quindi non credo si trovi ancora forse simile riuscite a trovarlo nelle boutique qui ci sono praticamente i miei orecchini preferiti ci sono i miei Louis Vuitton questi li indosso sempre tantissimo mi piacciono perché sono grandi mi piacciono gli orecchini grandi però non sono pesanti sono molto leggeri quindi semplici da indossare cioè comodi poi ci sono questi di Versace che sono una delle ultime aggiunte uno degli ultimi acquistini questi sono invece Chanel vintage e sono appunto gli orecchini però praticamente con la chiusura delle borsette molto belli questo è quello Saint Laurent a clip doppio di cui vi ho parlato più volte quindi non mi soffermo troppo sapete che è molto scomodo poi qui ci sono i miei orecchini Louis Vuitton in molti mi chiedete ancora di questi orecchini si trovano solo nella versione piccola ragazzi questa grandezza non si trova più purtroppo poi anche questi sono Louis Vuitton questi li indosso un pochino meno anche se sono molto molto belli poi ci sono questi Dior uno ha la scritta già Dior e l'altro ha semplicemente una stellina questi invece li ho pagati pochissimo su Asos ma sono bellissimi e ogni volta che li indosso mi chiedete in tantissimi dove li ho presi sono veramente sono parecchio appariscenti però appunto come dicevo a me piacciono gli orecchini così belli grandi e poi allora qua dietro c'è un bracciale Bulgari che mi è arrivato con un pacchetto appunto del brand molto bello perché il il bracciale è appunto di questo rosa metallizzato molto bello e poi qui c'è questo di Louis Vuitton che ho preso un paio d'anni fa qui ci sono altri bracciali in argento e in oro ah non vi ho fatto vedere questo questo è uno dei miei si è agganciato all'altro anello questo è uno dei miei preferiti e la camelia è un anello di Chanel stupendo poi qui ci sono altre collane indosso molto spesso queste collane questa poi questa con la pietra quest'altra con il sole anche questa ha una piccola pietra all'interno e queste le ho prese tutte su Missoma e poi qui ci sono altri orecchini argentati e orecchini dorati ci sono questi di Dior riconoscete un po' tutti credo altri anche questi sono Dior molto belli l'altra parte è una pina ci sono questi con il doppio logo Chanel che però hanno perso i brillantini cavolo altri che hanno perso il brillantino ve lo dico sempre non perdete non prendete di Chanel gli orecchini con gli strass perché inevitabilmente li perdono vabbè che te li sostituiscono gratuitamente allo store però un po' insomma ogni volta doverli riportare quindi non consiglio e poi qui ci sono altri questi sono sempre Dior li ossia dorati che appunto argentati e sì gli altri li conoscete questi anche questi sono Dior ero in lista d'attesa a lungo per questi e poi anche questi mi piacciono tantissimo sono di Louis Vuitton sicuramente me li avete visti indossare poi qui ci sono altri bracciali tutti dorati questi sono placatoro poi c'è Marc Jacobs Daniel Wellington e là dietro ce n'è un altro di Marc Jacobs e un altro di Daniel Wellington poi una curiosità ragazzi l'anellino che vedete il mio mignolo è un anellino che era di mia mamma quando lei era piccola è un anello d'oro era suo quando era piccola e poi quando sono nata io l'ha regalato a me e ci ha inciso sopra le mie iniziali che non so se si vedono adesso in videocamera c'è la H e la N ci sono la H ecco forse così un pochino riuscite a vederlo in controluce e sono molto molto affezionata come potete immaginare naturalmente a questo anellino piccolino altro gioiello di grandissimo valore per me questo braccialetto molto piccolo che è stato ovviamente uno dei miei primi gioielli quando ero piccola 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 ero neonata che lo avevo ed è anche questo d'oro e c'è inciso il mio nome ma non si vede in videocamera forse così riuscite a vederlo il mio nome credo più o meno altra cosa cui sono molto affezionata è questa collana di perle che era di mia nonna e quindi la conservo gelosamente poi altro cassetto ragazzi che andiamo ad esplorare questo è assolutamente nuovissimissimissimissimo qui c'è tutta la mia collezione Daniel Wellington che come potete vedere negli anni è cresciuta parecchio adoro 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 l'ultimo arrivato come sapete è lui con gli Swarovski bellissimo questo poi allora qui ci sono altri cinturini sempre per i miei Daniel Wellington qui c'è un bracciale con Swarovski che è stato il regalo di una mia cara amica che tra l'altro viene a trovarmi domani poi qui ci sono invece le scatole dei miei Passateur sono pietre identiche ai diamanti ad occhio nudo ma sono create in laboratorio appunto questa non è a fuoco eccola questa è a forma di cuoricino e poi c'è questa con un altro taglio di cui non so il nome scrivetemelo nei commenti comunque appunto questa è quadrata entrambe sono di due carati quindi parecchio grandi poi qua dietro ci sono i miei cerchietti anzi qua ci sono i miei cerchietti questo è il più bello che ho con questo fiocco è di Chanel qua dietro c'è la mia cintura di ormi vedete indossare questa cintura molto molto spesso la adoro è bellissima qui ci sono come potete vedere due dust bag delle mie due cinture Gucci una marrone e una nera ma mia mamma l'ha impacchettata così bene che non sappiamo più dove sono dopo il trasloco quindi shout out a mamma grazie mamma top anche questa era nascosta benissimo ma sono riuscita a ritrovarla queste due spunteranno e poi qui ci sono i miei quattro ma adesso sono tre perché il quarto lo sto indossando quattro bracciali Hermes o appunto quello oro e bianco oro e nero nella versione più spessa so che ci sono anche un pochino più sottili poi c'è questo argento e nero e questo argento e rosa poi qui ci sono invece due choker uno è di Saint Laurent e uno è di Dior poi qui ci sono i miei orecchini super eleganti con tutti questi strass meravigliosi di Chanel adoro questi orecchini sono per occasioni importanti ma sono bellissimi super super scintillanti e poi qui dovrebbero stare gli orecchini che sto indossando invece adesso che avete visto poco fa qui c'è il mio bracciale Saint Laurent adoro questo bracciale ce l'ho da almeno 5-6 anni e è bellissimo in particolare in estate con i vestiti estivi mi piace un sacco e poi qui ci sono invece i miei orecchini Valentino la mia spilla con perle Chanel molto bella questa anche da mettere sui cappellini su qualsiasi in realtà capo d'abbigliamento o accessorio e poi qui ci sono i miei orecchini sempre appunto Chanel questi sono a bottoncino non con gli strass ma con le perline che abbiamo visto resistono molto di più qua sotto non c'è niente di interessante ovvero ci sono i miei costumi e i miei foulard e altre cinture e poi qua sotto invece ci sono tutte le box vuote dei gioielli quasi tutte in realtà molte box vuote dei gioielli che avete visto poco fa chili e chili di box di scatoline di tutti questi brand che io conservo perché penso sempre potranno servirmi in realtà non mi servono mai però ho il cassetto pieno di roba da questa parte invece c'è il mio quadro di gatto denver con la lubouten che come sapete è stato dipinto da una mia cara amica valentina che saluto che mi manca già e lo so che non l'ho messo al centro della parete lo so che è messo malissimo e lo sposterò che cosa vi devo dire è messo talmente male che è quasi artistico mi andava di appenderlo e è andata così poi qua invece ci sono i miei top estivi qui ci sono alcuni tipo copricostume che non sono proprio vestiti qui ci sono altre maglie che indosso sotto ai maglioni tipo insomma altre magliette x ce le avete anche voi le maglie che mettete sotto ad altre maglie e non hanno niente di speciale di particolare io sì qui ci sono alcune camicie questa mi piace tanto perché mi ricorda molto Cher di del film Clueless che non mi ricordo mai come si chiama in italiano e poi qui ci sono invece appunto soltanto top e body qui alcuni abiti e il resto sono tutti top e body e poi qui ci sono invece allora altri abiti estivi jeans e pantaloni jeans e pantaloni abiti estivi gonne invernali è un po' buio scusatemi gonne invernali gonne estive e altre gonne estive quindi questo è tutto per quanto riguarda la mia cabina armadio degli abiti adesso dobbiamo vedere ancora quella degli accessori e qui entriamo invece nella seconda cabina armadio cioè quella degli accessori solo scarpe e borse si sta facendo buio ragazzi c'è il tramonto vi faccio vedere guardate che meraviglia il cielo sembra fatto di zucchero filato ho acceso una luce in modo che possiate vedere un pochino meglio spero si vedano bene qui ci sono tutte le mie borse eccole qua lì sotto c'è anche il mio trolley Louis Vuitton e per il resto ci sono tutte le borse vediamole un pochino più nel dettaglio lassù ci sono delle buste qui c'è il mio zainetto chanel andiamo veloci sono tante mio zainetto chanel hardware dorato lambskin molto molto bello pratico ci sta un sacco di roba questa invece è la mia borsa chanel della collezione invernale scorsa che ho preso perché secondo me è meravigliosa rosa grigia e ha anche questi dettagli crema il come si chiama la cinghia la non mi viene comunque rosa quindi mi piaceva tantissimo qui invece c'è una piccola pochettina di fendi di questo bellissimo rosa confetto qua sotto ci sono altre chanel tutte e tre questa è della scorsa estate trasparente con la sabbia all'interno è troppo bella questa e sto ritornando ad utilizzarla tantissimo adesso appunto quindi adoro questa borsa sono strafelice di averla presa poi qui c'è la mia chanelina però color tiffany questa è versione è grandezza small però non è in realtà piccolissima e l'hardware come potete vedere è argentato è di un colore meraviglioso ma ne ho preso un'altra dello stesso colore che già conoscete ma tra poco vedremo qui c'è un'altra di chanel che è una delle mie preferite ma non so perché non la uso abbastanza in realtà è bellissima questa è nella versione small è un vanity case mi piace tantissimo questo colore beige è piccolina ma ci sta parecchia roba credetemi e mi piace tantissimo che ci sia il lucchetto con il logo e poi appunto la chiave nascosta eccola qua poi sotto altre chanel queste sono abbastanza queste due sono abbastanza recenti come acquisti ho preso prima quella nera appunto in pelle lucida con hardware dorato che adoravo ho adorato da subito cioè che adoro tuttora ma che ho adorato dal primo istante in cui l'ho vista e quindi l'ho presa uguale identica anche rossa ragazzi è troppo troppo bella anche questa è un hardware dorato che però è champagne quindi non è un dorato troppo giallo come colore è bellissima e poi qui c'è questa piccolina vintage ma che adesso va super di moda vanno super di moda le micro bag come questa questa penso abbia più anni di me è tipo dell'81 82 una roba del genere la adoro è super elegante naturalmente piccolina ci sta pochissima roba ma per una serata ragazzi l'ho indossata spesso è molto molto bella molto elegante poi qua sotto c'è la mia Givenchy Antigona e la Dior non so il modello comunque molto molto bella questa la uso pinestat che in inverno non so perché for some reason poi qua sotto c'è la mia speedy Louis Vuitton è molto bella quindi ma devo stare attenta a non metterci cose troppo pesanti altrimenti è davvero scomoda e poi qua sotto c'è un'altra bellezza meravigliosa un'altra Chanel questa la uso o per andare al mare tipo in spiaggia oppure per viaggiare e si può portare sia così a spalla che così a mano è molto comoda molto leggera se non fosse per questa catena quindi anche molto pratica è bellissima sono contenta di avere un posto anche per le mie borse grandi qui nella nuova casa perché queste erano tutte lanciate in un angolino una messolina nella casa vecchia non si vedevano proprio qui invece si vedono molto bene partiamo dal basso allora qui qui c'è il mio trolley Louis Vuitton lo conoscete lo uso tantissimo è molto pratico molto comodo praticamente va in giro da solo lanci se ne va da solo quindi sono contenta che anche lui abbia il suo posto speciale qui poi qua ci sono le mie due boy bag ossia quella nera con hardware dorato questi sono i modelli nuovi la grandezza nuova ossia quella nera con hardware dorato che quella nude cammello nude sempre con hardware dorato questa l'ho presa a Los Angeles e mi sono innamorata di questa borsa non appena l'ho vista e l'ho presa subito poi qua sopra ci sono altre Chanel si vede quella fissa per Chanel non lo so allora qui ce ne sono altre tre questa è la mia mini quadrata colore è tipo un ten rosato un malva è strano questo colore però è molto bella anche questa elegante ma non necessariamente poi c'è questa la mia jumbo fucsia adoro hardware champagne questa l'ho presa a Roma bellissima e poi stessa grandezza sempre jumbo o anche quella bianca questa l'ho presa vintage quindi si vede che è anche un po' consumata no ancora non l'ho portata a pulire lo dico da 5 anni tipo ancora non l'ho fatto comunque è meravigliosa bianca questa è in lampskin lampskin questa è in caviar quindi questa è a pelle martellata un pochino più resistente questa però si è delicata ma è bellissima cioè è veramente veramente un gioiellino poi sopra altre Chanel c'è il mio wallet on chain questo ho anche la catena all'interno ve lo faccio vedere eccola lì il mio wallet on chain rosa di in pelle lucida poi c'è questa che è l'ultimo arrivo in realtà non è l'ultimo arrivo perché l'ultimo arrivo è in arrivo ma facciamo che sia l'ultimo arrivo e questa è appunto di questo bellissimo color Tiffany praticamente uguale all'altra che si vede in sottofondo questa è un pochino più chiara come colore bellissima modello speciale è veramente splendido come modello e voglio prenderne altre in questo modello ma ovviamente diversi colori diversa fantasia eccetera però il modello è veramente molto bello c'è anche la strap più lunga volendo e poi qui c'è un altro wallet on chain questo è viola appunto metà chevron metà quilted e faceva parte di una collezione del 2015 se non sbaglio molto molto bello anche questo anche questo ha la catena all'interno e ha il logo che è un pochino particolare perché appunto è di questo color metallo non è né argento né dorato saliamo ancora qui ci sono altre Chanel questa l'ho presa vintage come sapete perché non si trova nuova di questo colore l'ho cercata in lungo in largo ed è appunto rosa questo bellissimo rosa confetto con hardware dorato e adoro adoro questa borsa è meravigliosa e poi c'è la mia jumbo una delle mie prime Chanel la mia jumbo nera caviar con hardware argentato questa me la vedete indossare spessissimo e poi abbiamo visto tutte queste borsette ci mancano queste ci sono allora queste sono le mie san dorando lo so pronunciare lo sapete comunque qui c'è il mio non lo chiamano wallet on chain non mi ricordo comunque un portafogli con catena beige con questo che non so mai come si chiama ma mi piace giocarci poi c'è quest'altra questa è di un rosa ragazzi meraviglioso ed è appunto parecchio spaziosa anche questa san loran e poi c'è la mia prima san loran questa è piccolina è una pochette da sera la uso molto spesso quando ho serate particolari perché è molto bella secondo me fa la sua figura molto carina semplice ma bella poi ne abbiamo altre come potete vedere altre due san loran questa è bellissima in velluto nero con queste stelline glitterate argentate che era una collezione esti eh no invernale tipo capodanno di qualche anno fa poi c'è questa verde metallizzato bellissima un po' più grande rispetto alla pochettina nera quindi ci sta anche un pochino più roba adoro questo è un colore bellissimo poi qui c'è la mia valentino piccolina la mia valentino rossa e poi qua sotto allora qui c'è la custodia del cellulare perché adesso sto indossando quella con la batteria incorporata che mi allunga la vita della batteria praticamente non mi ricordo il nome ok quindi la spiego così e qui c'è la come la messa qua non so perché poi qui c'è la mia celine nano che uso poco in realtà non so se dovrei vendere oppure no e poi c'è la pochette metis metis può essere che si chiami così e si pronuncia così di Louis Vuitton poi qua sotto c'è la borsa del back swap con chiara questa è una gucci meravigliosa con questi fiori rosa e arancio poi qui c'è la pochette anzi questa sì è una pochette di cute circuit che ci è stata regalata alle Maldive da benefit quando siamo stati quando sono stata lì all'evento per il lancio del bad girl bang e ci hanno regalato questa pochette che si praticamente si comanda dall'app non sono brava a spiegare comunque si comanda dall'app e qui ci fai comparire quello che vuoi cioè coricini oppure il tuo nome qualsiasi scritta è una figata qui c'è l'altra mia gucci sempre Dionysus come questa questa però appunto è monocolore ed è di questo bellissimo color menta non la so descrivere ma è molto delicata ma è anche meravigliosa e poi qua sotto c'è la mia baby di Christian Dior che è personalizzata e adoro il fatto che ci sia scritto il mio nome quindi voi lo sapete che sono fissata con le cosine personalizzate adoro adoro troppo questa borsa ragazzi secondo me è bellissima inizialmente non ero convinta di volerla prendere ma poi me ne sono innamorata qui appeso c'è uno degli ultimi acquisti questa l'avete vista se avete visto il video con Chiara di qualche tempo fa del nostro shopping milanese ve l'ho fatta vedere sul suo canale ed è una giacca barra camicia di San Loran che ho preso appunto alla boutique di Milano è molto bella questi dettagli del logo ricamati che sono veramente meravigliosi è dorato scintillante il logo ma a causa della luce adesso non penso riusciate a vederlo bene comunque adoro tantissimo questa nuova aggiunta poi ci sono questi stivaletti di Gucci questi li conoscete altre decolletè altre scarpe con il tacco altre decolletè altri sandali decolletè la sotto invece ci sono stivali qui ci sono le mie sneakers non sono mai stata un'amante delle sneakers la passione per le sneakers mi è iniziata un anno fa o due uno o due anni fa quindi mi sto facendo la mia piccola collezione appunto giù ho le sneakers di Valentino qui ne ho altre di Valentino di Gucci queste ve le ho fatte vedere anche queste nel video di Chiara e sono di Chanel le ho comprate alla boutique di Milano cos'era un mesetto fa che sono stata a Milano appunto con Chiara poi queste sono di Balenciaga anche queste sono meravigliose veramente meravigliose sono super comode sono praticamente le scarpe più comode che ho sembra di camminare su una nuvoletta anche se sono abbastanza pesanti poi qui ci sono queste Dior in velluto rosa sono bellissime queste e sui laccetti c'è scritto già Dior Christian Dior bellissime e poi queste sono anche queste le ho prese quest'anno queste invece sono di Gucci molto semplici bianche con il logo traforato e con il dettaglio appunto sul dietro la caviglia rosa quindi non potevo non prenderle altre decolletè in particolare mi piacciono queste che sono di Gucci e queste queste sono quelle di Valentino che sono meravigliose e anche sorprendentemente comode ragazzi poi ci sono queste di Christian Dior che non ho mai messo praticamente a parte una volta mi rendo conto lo so non sono bellissime non so che cosa avevo in mente quando le ho acquistate ma al momento mi piacevano ragazzi qua sopra invece ci sono i miei stivali Stuart Weitzman ne ho quattro questi sono bassi questi tre invece sono tutti e tre con il tacco e tutti e quattro arrivano sopra al ginocchio qui ne ho altri questi in particolare sono molto molto belli di Gianvito Rossi li adoro poi ci sono questi Louboutin bellissimi li ho indossati tantissimo sono super comodi questi poi qui ci sono le mie ballerine queste di Dior le adoro anche queste di Valentino sono meravigliose anche se sono la cosa più scomoda al mondo perché mi fanno venire centomiliardi di versiche ma vi adoro lo stesso poi queste sono di Miu Miu tutti le odiano a me piacciono e poi ci sono anche le ballerine di Chanel le ho sia bianche e nere che solo nere dove sono eccole qua queste sono solo nere usate tantissimo e poi ci sono i due mocassini di Gucci sia in questo meraviglioso rosa che poi in nero questo invece è il mio unico paio di Jimmy Chu non so perché ma mi piacciono di più altri brand mi piace più Louboutin mi piace più Gucci anche se anche questi sono molto molto belli altro paio di Louboutin che sono probabilmente anzi sicuramente le mie de Gaulle preferite sono queste sempre di Louboutin anche queste sono molto comode sempre sorprendentemente ma sono molto comode e poi qua sotto visto che non avevo spazio ho lanciato altri sandali di Valentino altri sandali di Valentino le ciabattine di Valentino e un sacco di altri sandali e poi qui qui ci sono i miei hug molto carini con il fiocchetto e poi qua sotto i Dr. Martens e altri stivali quindi mia family questo è tutto per il video di oggi speravo di concluderlo prima che facesse buio cioè in realtà ce l'ho fatta perché ancora non è buio totale però la luce non è abbastanza per filmare senza quindi scusatemi se c'è questa che è naturalmente artificiale ma giusto per salutarvi io vi mando un bacio grandissimo spero veramente che vi sia piaciuto questo video che ci ho messo un secolo a registrarlo ma c'erano tante cosine da farvi vedere bacio grandissimo venite qua che vi abbraccio forte forte fortissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo voi vedrete questo video domani che è giovedì quindi noi ci vediamo domani venerdì sempre alle 17.30 puntuali con un nuovo video, bacio grande ciao